La Basilica del Santo ospita il tradizionale concerto di Natale con i solisti veneti diretti da Giuliano Carella. Il santuario Antoniano sarà chiuso al pubblico ma il concerto sarà trasmesso in diretta televisiva su Rete Veneta a partire dalle 21 di domenica 27 dicembre. I solisti veneti eseguiranno musiche di Giuseppe Tartini, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Franz Gruber, Johann Sebastian Bach, Sant'Alfonso Maria dei Liguori e non mancheranno i classici natalizi. Non a caso proprio davanti all'Arca del Santo, il luogo benedetto davanti al quale i padovani si sono raccolti per generazioni nei giorni della gioia e in quelli del lutto per ringraziare il Santo ma anche per invocare il suo aiuto soprattutto nei momenti difficili. Esattamente nello stesso luogo e con lo stesso spirito i solisti veneti hanno deciso di celebrare il loro concerto di Natale proprio nella Basilica del Santo proprio di fronte all'Arca e non poteva essere che Tartini che per una vita intera in quella basilica prestò servizio come primo violino e maestro dei concerti ad aprire il programma della serata con una composizione per archi in questo caso senza solista, appuntamento dunque su Rete Veneta alle 21.